Oggi siamo qui per assistere gli studenti che si apprestano a svolgere il test di medicina. Per fortuna il nostro Ateneo ha adottato dei sistemi di sicurezza validi chiedendo appunto il Green Pass all'entrata e vediamo come un gran numero di studenti si è riversato all'interno dell'università. Siamo qui presenti oggi appunto per dare supporto a tutti gli studenti che si ritrovano comunque ad affrontare questi test. Oggi è la prima giornata, ci saranno anche altre giornate durante tutto il mese di settembre. Il nostro supporto non si ferma soltanto a questa giornata ma appunto prosegue fornendo tutte le varie informazioni di cui necessitano appunto gli studenti come scorrimenti, graduatori e tutte le varie informazioni.